Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi andremo a vedere le notizie più importanti che sono avvenute durante questo fine settimana e oggi partendo quindi da qualche notizia riguardante le grandi aziende Chelsea, Setri e Arrow Capital che stanno avendo problemi a livello di liquidità nel particolare questo ha anche intaccato un protocollo DeFi che si chiama Bancor su Ethereum, lo vedremo in seguito per poi passare su Solana e la piattaforma Solend e vedere che tipo di problema si sta manifestando su quella piattaforma qualche piccola news su USDD, la stablecoin di Tron e anche la stablecoin MIM, quella di Abracadabra perché aveva perso il PEG temporaneamente durante il weekend andiamo a capire cosa è successo e che cosa stanno facendo per cercare di agevolare il mantenimento del PEG di MIM passiamo subito al computer, ci vediamo lì eccoci qui e partiamo dalla situazione Celsius slash Tree e Arrow Capital, queste due grandi aziende che appunto sono in una situazione abbastanza critica in particolare di liquidità e di debiti che devono ripagare e il protocollo DeFi Bancor, come ho scritto in quest'ultimo tweet, è stato in un qualche modo intaccato per quale motivo? Andiamo un pochino a vedere insieme questo tweet che ho scritto stamattina in sostanza Bancor, per riepilogare per chi magari non lo conosce, è un protocollo, è un exchange decentralizzato su Ethereum basato sul classico modello degli AMM dove però a differenza dei classici ed ex dove bisogna per inserire liquidità fornire una coppia di token ad esempio ETH, USDC su Bancor era possibile anche depositare solo un singolo asset, quindi solo ETH in realtà questo ETH veniva subito accoppiato con il token proprietario BNT un po' come funziona su Torchain, c'è una qualche analogia nel senso che in realtà questi BNT venivano proprio messi dal protocollo quindi erano una protocol on liquidity se vogliamo vederla ma chi forniva liquidità in un certo senso era anche esposto all'impermanent loss perché è vero che a lui sembrava di depositare un asset singolo ma questo asset veniva subito accoppiato con BNT quindi come al solito c'è da considerare l'impermanent loss con una differenza che, e questo appunto è analogo a quello che accade su Torchain c'era un meccanismo di impermanent loss protection, ossia che quando un utente prelevava veniva calcolato l'impermanent loss che si era andato a perdere, tra virgolette o comunque che si era andato a incorrere e tale impermanent loss veniva ripagato sotto forma di emissione di token BNT proprietario quindi ipotizzando di aver perso un 0.1 ETH, come scrivo in questo esempio ci venivano forniti una quantità di BNT tale da coprire tutta questa perdita stamattina poi arriva questo articolo, e mi riferisco a questo articolo qui dove nelle prime righe dicono che a causa delle condizioni di mercato molto ostili il sistema di impermanent loss protection che Bancor aveva implementato è temporaneamente sospeso, quindi è in pausa e verrà riattivato solamente in un secondo momento quando il mercato si ristabilizzerà se infatti scendiamo un po' nell'articolo, oppure nel tweet visto che l'ho aggiunto anche qui si legge proprio come tutto questo è stato amplificato dalla recente insolvenza di due larghe istituzioni centralizzate ovviamente fa riferimento a Celsius e a Eurocapital per quale motivo? e lo dico qui perché al fine di coprire i loro debiti queste aziende hanno incominciato a rimuovere la liquidità da Bancor dato che molto probabilmente avevano depositato parte della liquidità anche su questo protocollo vendere tutti i BNT che ottenevano tramite il programma di impermanent loss protection tra l'altro viene anche citata un'entità sconosciuta che avrebbe aperto uno short su BNT presso un exchange centralizzato, si ipotizza FTX quindi capite bene il meccanismo e la strategia queste aziende, quindi supponiamo Celsius e Eurocapital anche se ovviamente non è nulla di confermato ci sono degli indirizzi ai quali possiamo fare riferimento ma benché alcune analisi on-chain possono fare riferimento effettivamente soprattutto a Celsius non abbiamo mai la certezza al 100% che siano veramente indirizzi collegati a queste entità però rimanendo su questa supposizione che cosa possono aver fatto quindi che tipo di strategia possono aver utilizzato sapendo che sarebbero andati a rimuovere liquidità avrebbero ottenuto BNT come impermanent loss protection e poi la loro idea era quello di venderlo immediatamente hanno subito aperto uno short su un exchange centralizzato poi hanno prelevato la liquidità, ottenuto i BNT da impermanent loss protection e venduto BNT soprattutto su grandi quantità di liquidità come Celsius e Eurocapital potevano avere capite che delle vendite così a mercato di BNT impattano notevolmente il prezzo e quindi il guadagno anche con lo short fatto su un exchange centralizzato come vi dicevo prima analizzando on-chain ci sono dei wallet che in un qualche modo sono riconducibili a Celsius e che effettivamente hanno fatto questa strategia qui qui ho messo uno screenshot si può vedere che la strategia è proprio quella di fare l'harvest quindi ricevere la liquidità qui hanno ricevuto circa quant'è un milione di BNT scambiarli subito per ETH in quest'altra transazione anche qui hanno ricevuto BNT e subito scambiati per ETH quindi ricevuta la liquidità subito dampata per Ethereum e alla fine la mia considerazione cioè cosa ne penso? chiaramente io capisco la situazione a cui Bancor è di fronte perché è una sorta di spirale negativa una sorta di spirale della morte perché? perché l'idea è più gente rimuove liquidità in un periodo come questo dove tutti tendono a rimuovere liquidità dalle piattaforme DeFi e Cefai più c'è emissione di BNT a causa del programma di Impermanent Loss Protection più la gente vende questa emissione più dampa BNT più aumenta l'impermanent loss per coloro che sono ancora dentro la liquidità quindi quando rimuoveranno tale liquidità aumenterà ancora di più l'emissione per l'impermanent loss protection il tutto in loop quindi capite bene che è una vera e propria death spiral per il token BNT e hanno deciso di interromperla sostanzialmente il fatto è che questa interruzione mina la fiducia e la credibilità di queste piattaforme che avevano basato il loro modello su questo e allora bisogna interrogarsi se effettivamente era tale modello in sé a non essere forse sostenibile soprattutto in momenti come questi cioè altamente instabili tant'è che poi ho aggiunto questa considerazione cioè non ho ben approfondito tutte le differenze che sicuramente ci sono con protocolli del calibro di Torchain ma anche lì attenzione perché c'è attivo un meccanismo analogo di Impermanent Loss Protection un pochino differente però ripeto c'è un meccanismo analogo passando invece alla questione Solana e in particolar modo alla piattaforma Solend che cosa è accaduto e cosa sta succedendo in pratica questa whale ve la faccio subito vedere questa whale di questo indirizzo qui 3OS e 9C ha una posizione multimilionaria su questa piattaforma che è una piattaforma di lending quindi dove si può depositare crypto come collaterale e prendere dei prestiti nel particolare ha 203 milioni di dollari in supply sotto forma di 5 milioni e 700 mila Sol circa e ha preso in prestito 106 milioni di USDC e 1 milione e mezzo di USDT considerate che tutta la piattaforma ha una supply di 481 milioni quindi questa whale ha quasi il 50% dell'intera liquidità infatti se guardiamo solo ai Sol lui ha 5 milioni e 700 mila Sol depositati per un totale di 5 milioni e 986 mila Sol depositati quindi ha quasi tutti i Sol sono i suoi e anche gli USDC che ha preso in prestito che sono 106 milioni consideriamo che ce ne sono 120 milioni vuol dire che quasi tutta la domanda di questi USDC in prestito è sua ok? e che cosa è successo nel particolare? lo vediamo bene qui quindi ha questa quantità di Sol depositata questa quantità a prestito ha più del 25% del TVL in realtà dell'intera piattaforma sta a significare un 95% dell'intero deposito di Solana l'88% della domanda di borro su USDC e ha un prezzo di liquidazione di Sol a 22 dollari e 30 in questo momento ci siamo un po' distanti perché oggi tutte le cripto compresa Solana sono un po' risalite ma il problema è che questa whale non fa movimenti da circa 12, 13, 14 giorni quindi circa due settimane e il problema soprattutto nei giorni scorsi è che se Sol dovesse arrivare al prezzo di liquidazione cioè questo 22 dollari e 30 tale whale andrebbe liquidata per circa un 20% di quello che hanno preso in prestito che sono 21 milioni come però abbiamo spesso visto anche insieme quando scatta una liquidazione c'è qualcuno che deve liquidare quella posizione ossia c'è qualcuno che deve ripagare il debito debito che sarebbe sotto forma di USDC e a lui, a colui che ha liquidato viene dato il collaterale in sconto il problema è che 21 milioni di collaterale on chain non ci sono, o meglio, non c'è tutta questa liquidità che faciliti uno swap senza un grande slippage vi faccio vedere se noi andiamo su Jupiter che è un DEX aggregator su Solana e proviamo a mettere 720.000 SOL che sono circa 21 milioni al prezzo di 20 dollari e voglio ricevere USDC vedete che perdo circa un 41,61% di slippage cioè ottengo solamente 14.800.000 USDC ossia ho uno slippage enorme e questo fa in modo che la liquidazione non sia così banale o meglio, che non venga incentivata la liquidazione qual è il problema? è che se non viene incentivata la liquidazione la piattaforma Soland crea debito cattivo e se crea debito cattivo la piattaforma sicuramente gli utenti ne rimettono perché vuol dire che qualcuno non avrà poi la possibilità di prelevare ciò che aveva depositato già adesso vi faccio vedere che su Soland per quanto riguarda gli USDC la capacità è quasi al limite cioè ci sono 120.709.992 USDC e ne sono stati presi in prestito quasi tutti cioè ci sono circa 30-40 USDC liberi a parte quello è tutto prelevato questo vuol dire che chi ha depositato USDC non lo può praticamente nemmeno prelevare tra l'altro aggiungo che rende impossibile la liquidazione di tutte quelle posizioni che sfruttano USDC come collaterale perché fondamentalmente non si può andare a prendere il collaterale visto che tutto il collaterale o meglio tutto quello che dovrebbe essere a collaterale è in realtà preso in prestito quindi capite che il problema non è affatto grave non è affatto banale e con questa Soland 1 l'idea, la proposal che poi tra l'altro era passata era quella di risolvere la situazione in maniera piuttosto brusca cioè la loro idea loro volevano risolvere questa situazione andando in sostanza a prendere temporaneamente controllo dell'account della whale in modo che, lo vediamo scritto qui la liquidazione possa avvenire solo tramite transazione OTC over the counter e quindi non on-chain e di questo modo evitando anche che ci sia quello slipage enorme oltre che evitare che Solana venga interrotta a causa di un'inondazione di transazioni perché, qui lo spiega meglio sicuramente nella proposal se volete leggervela per intero però tenete conto che in passato Solana aveva avuto dei problemi cioè era stata costretta allo shutdown e al ripristino a seguito di un'inondazione di transazioni di liquidazione e tra l'altro non si trattava nemmeno di una liquidazione così grande da circa 20 milioni di dollari quindi la loro paura era anche che la stessa chain sarebbe andata in stallo e quindi per evitare tutto ciò l'idea era prendiamo controllo di questa whale del suo account in che modo tramite uno smart contract upgrade questo perché loro non possono effettivamente prendere il controllo dell'indirizzo di questa whale però dato che i soldi di questa whale sono all'interno di uno smart contract che è lo smart contract di Solan loro tramite un aggiornamento allo smart contract avrebbero in qualche modo evitato la liquidazione on-chain e avrebbero eseguito una liquidazione OTC questa però benché sia stata prima votata e quindi era passata e sarebbe dovuta essere effettivamente eseguita è stata poi successivamente seguita da quest'altra proposal la Solan 2 che anche questa è passata quindi ha invalidato la prima proposal e ha aumentato il tempo di voto a un giorno pieno questo perché ovviamente la community aveva reagito in maniera molto molto negativa perché ovviamente prendere il totale controllo di un account anche tramite uno smart contract upgrade va contro tutto quello che dovrebbe essere la DeFi quindi anche su Twitter si era scratenato veramente il panico e i commenti negativi erano più vuti veramente su Solan in questo momento quindi non c'è una proposal attiva che prenda in gestione la situazione ma ovviamente arriverà arriverà una sorta di Solan 3 rimarremo aggiornati su questo su Telegram e su Twitter passando a parlare di USDD stamattina la Trondau Reserve ha comprato circa 10 milioni di USDD sulla rete Tron questo è importante perché in questo momento in realtà USDD si trova ancora sotto PEG ma il motivo non è tanto che non c'è collaterale infatti stando al sito ufficiale soltanto considerando le stable coin vedete che la reserve è nettamente superiore alla market cap alla supply quindi potrebbero comprare tutto il circolante volendo il problema è che non lo stanno facendo e quindi si stanno affidando semplicemente all'arbitraggio on chain che a quanto pare non è abbastanza perché vedete che il PEG continua ad essere non rispettato addirittura ha toccato anche 0.92 se non sbaglio nei giorni scorsi nel weekend personalmente starei molto molto attento a toccare maneggiare USD e anche TRX sia a diciamo dire che questa crollerà sia contrariamente a pensare che questo riprenda il PEG cioè il risk reward secondo me è nettamente sfavorevole all'uso di questa stable coin e infine voglio parlarvi anche di quello che è accaduto da bracadabra perché adesso voglio prendere proprio il grafico di MIM durante il weekend ha perso il PEG andiamo a prendere sette giorni vedete che durante il weekend è arrivata addirittura a 0.93 per poi riprenderlo in questo momento a 0.99 e il motivo è sicuramente dettato dal mercato che è veramente volatile in questi ultimi giorni e c'erano rumors di debito cattivo e di una non corretta sovracollateralizzazione di MIM che ha subito chiarito tramite questo articolo dove pubblica secondo me in maniera completamente esaustiva questa foto dove per ogni tipo di collaterale loro dicono quanto è effettivamente il collaterale e quanto sono i MIM borrugati vedete che ci sono solo tre tipi di collaterali per i quali c'è una perdita netta per il protocollo ma se poi andiamo a vedere il totale vediamo che i MIM borrugati sono 274 milioni per un collaterale di 460 milioni quindi c'è una sovracollateralizzazione sì c'è una sovracollateralizzazione questo è sicuramente un bene e dovrebbe far stare più tranquilli detto questo in questo periodo tutte queste stablecoin hanno comunque un rischio intrinseco però quantomeno la realtà dei fatti è che il collaterale supera il debito in sostanza e andando a utilizzare questa dashboard che è aggiornata in tempo reale forse con 5 ore di attesa possiamo vedere che i MIM borrugati qui in tempo reale sono circa 200 milioni per un collaterale da 374 milioni quindi comunque c'è sovracollateralizzazione qui tra l'altro possiamo anche andare a vedere come è composto il collaterale ovviamente per tutti coloro che avessero dei debiti ancora attivi sovracadabra il momento migliore per andare a ripagarli è proprio quando MIM va sotto peg perché diventa molto più profittevole andare a ripagare le proprie posizioni tra l'altro è anche uno dei metodi che MIM può utilizzare oggettivamente per cercare poi di riprendere il peg in situazioni come quelle dove lo perde temporaneamente bene ragazzi spero che vi sia piaciuto questo video lasciate un bel like per supportare il mio lavoro iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti